L'incidente mortale del 7 febbraio nel cantiere del Terzo Valico fra Piemonte e Liguria con la morte di un operaio di 33 anni e la morte di un 53enne 9 febbraio scorso a Savona sono solo gli ultimi due gravi episodi avvenuti nella nostra regione. Ma nel corso del 2022 in Liguria, secondo dati INAIL elaborati dall'Ufficio Economico della CGL, c'è stato un incremento del 49% del numero di infortuni sul lavoro e la Liguria registra inoltre un aumento in percentuale superiore alla media rispetto alle altre regioni del nord-ovest, ma anche rispetto alla media nazionale. Scorporando da questi numeri quelli relativi alle denunce per Covid-19, il dato Ligure resta comunque superiore a quello dell'anno precedente, quasi del 3%. Lo scorso anno in Liguria ci sono stati 24 infortuni mortali, poco meno della metà di questi, a Genova. In particolare a Genova che rappresenta il 56% degli infortuni complessivi e parliamo quindi di quasi 16.000 infortuni divisi equamente tra uomini e donne. È un dato preoccupante perché ci consegna anche purtroppo 11 decessi a causa degli infortuni sul lavoro. Secondo il sindacato la strada non può che essere quella duplice della prevenzione e del controllo. A livello nazionale da tempo abbiamo aperto un'avvertenza con i vari governi che si sono succeduti in questi anni e continueremo a farlo con questo governo. Stiamo chiedendo delle cose precise che sono investimenti, finanziamenti che devono servire per la formazione e ci deve essere anche un aumento di quelli che sono le assunzioni per chi deve svolgere l'azione di controllo poi nei vari appalti, nei luoghi di lavoro. Troppe imprese, mentre ce ne sono molte che attuano tutte quelle che sono le misure di sicurezza, troppe imprese appunto ancora oggi pensano di scaricare i costi della crisi sulla sicurezza, generando così un aumento in realtà dei costi perché c'è un'incidenza poi generale di quelli che sono le ricadute degli infortuni su tutta la popolazione. Da parte nostra sul territorio genovese della città metropolitana stiamo discutendo per chiudere un accordo che riguarda il mondo degli appalti, che è uno di quelli più bersagliato dagli infortuni. In particolare con l'apertura dei tanti cantieri legati al PNRR abbiamo paura, il timore, che ci possa essere un ulteriore aumento anche degli infortuni. Grazie.